Buon pomeriggio e ben trovati alla prima edizione del Tg6. In apertura ci occupiamo di politica perché ieri c'è stata la conferenza stampa di Forza Italia sul bilancio con le critiche mosse alla giunta d'Alfonso e oggi è arrivata la replica di Camillo D'Alessandro per conto della maggioranza e della giunta guidata dal presidente D'Alfonso. D'Alessandro ha respinto al mittente tutte le accuse, soprattutto quella più grave politicamente, di aver alzato le tasse secondo Forza Italia. Allora vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Neanche 24 ore dalle dichiarazioni del centrodestra è subito pronta la risposta del PD sulle critiche mosse alla finanziaria appena approvata. Camillo D'Alessandro rimanda al mittente le accuse e spiega che i suoi predecessori, coloro che oggi lo attaccano, sono proprio la causa del debito accumulato dall'Abruzzo. Anni di bilanci tecnicamente falsi, spiega il consigliere delegato, privi di rendicontazione, un buco da 529 milioni di euro. Mai più le nuove generazioni saranno indebitate dalle vecchie generazioni della politica e dei politici che invece di assumersi le responsabilità hanno rinviato al futuro le non decisioni come se il futuro fosse una discarica e oggi noi e soprattutto i nostri figli pagheranno il prezzo. Era necessario iniziare a pagare i debiti che hanno fatto altri per liberare risorse per partite essenziali come il sociale, come i trasporti, come tutto il resto che oggi non trova grandi coperture ma solo attraverso un bilancio verità iniziamo un cammino che ristabilisce priorità e risorse certe. La seconda precisazione la fa sull'accusa mossa la tassazione. Se il centrodestra accusava di aver mantenuto costante la tassazione nonostante il pareggio nei conti, D'Alessandro spiega l'opera in corso per aumentare i servizi sul territorio. I 529 milioni pesano sul bilancio in modo clamoroso. L'abbattimento delle tasse è come se cambiassero la vita i cittadini abruzzesi. Anche un euro per carità sono importanti ma stiamo parlando di meno di mezzo pacchetto di sigarette all'anno a cittadino. Non stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro. È meglio restituire questi soldi ai cittadini con i servizi per esempio garantendo le prestazioni essenziali sul sociale, garantendo la sanità, garantendo il diritto ai trasporti. È chiaro che questo è un pelaggio intivenire perché da qui a qualche mese, quando avremo la certezza di poter ammortizzare questo debito in 10 anni, non in 7, si libereranno risorse che andranno sul sociale e sui trasporti. Sinistra Ecologia e Libertà ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nel 2015 e ha progettato il 2016 con le prossime attività e i prossimi impegni, tra cui la deriva petrolifera, la bonifica della discarica di bussi e le politiche ambientali di tutela del territorio. Vediamo. Un anno di selo, un anno di battaglia e di risultati per l'Abruzzo. Inizia così il resoconto stilato dai rappresentanti di Sinistra Ecologia e Libertà, che elenca le priorità per il 2016, come il non-brina, la bonifica di bussi, la politica sui rifiuti, la ricostruzione all'Aquila e il caso dei puratori. I finanziamenti previsti nel masterplan su cui noi abbiamo puntato in maniera importante, 60 milioni per la Tremonti di bussi, di cui 4 già disponibili con la programmazione del 2016, ma anche e soprattutto il 2SIR, il signore interesse regionale di Chietiscalo, su cui molti dichiaravano da tempo di volersi impegnare, ma su cui di fatto abbiamo noi realizzato questo importante finanziamento di 6 milioni di euro, di cui uno già utilizzabile dal 2016 e poi il SIR salire a lento. Dall'altra a parlare il parlamentare Gianni Melilla, che spiega il lavoro svolto a Roma. Tra le priorità il reddito di cittadinanza per i disoccupati, l'apertura di un terzo polo universitario e l'ASPRA critica la legge Fornero, sulla quale spera di ottenere delle modifiche grazie ad una proposta già scritta. Io ho presentato varie proposte di legge in questo campo. Una a cui tengo molto è quella di rivedere, per esempio, l'età pensionabile per tutte quelle famiglie in cui c'è un disabile a carico al 100%, grave. E quindi per quelle famiglie i lavoratori non possono arrivare a 67, 68, 69 anni per andare in pensione perché ovviamente con l'età i problemi della salute si aggravano e l'esigenza di accudire delle persone disabili renderebbe necessaria una misura di equità, nel senso di prevedere per queste famiglie la possibilità di un'età pensionabile che abbia degli sconti come età. Ed ora la cronaca. Gli agenti della squadra mobile della questura di Pescara hanno individuato il presunto autore dell'aggressione compiuta il 7 ottobre del 2014 in via Pepe, in zona stadio, ai danni di un cinquantenne pescarese che morì per il peggioramento del quadro clinico ed in seguito ad una embolia polmonare. Cinque giorni dopo in ospedale dove era stato ricoverato per la frattura del femore destro e del gomito destro ad essere indagato dalla procura di Pescara per il reato di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi e un 55enne originario di Chieti a cui è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. E ancora una truffa ai danni di una donna con il pretesto del falso incidente stradale in cui è coinvolto un familiare. A Chieti un sedicente assicuratore ha contattato telefonicamente una 67enne affermando che il figlio dopo un incidente d'auto che aveva coinvolto altri veicoli doveva risarcimenti per 4.000 euro per evitare ripercussioni di carattere penale. Ad un collaboratore di questo sedicente assicuratore passato in casa poco dopo la donna ha quindi consegnato 400 euro in contanti e oggetti in oro per un valore complessivo che si aggira attorno ai 4.000 euro. Solo più tardi dopo essere riuscita a parlare con il figlio si è resa conto di essere stata truffata e si è rivolta ai carabinieri per la denuncia. Con analogo pretesto, nei giorni scorsi ad una donna erano stati sottratti 2.500 euro. Restiamo a Pescara e parliamo adesso di inquinamento in particolare in relazione al Sansificio perché le associazioni ambientaliste sono tornate a lanciare l'allarme rispetto alle emissioni del Sansificio Sito a Porta Nuova e le stesse associazioni hanno diffuso delle immagini riprese da una termocamera che vediamo nel servizio di Paolo Renzetti. Il forum abruzzese dei movimenti per l'acqua e l'associazione Pescara.0 chiedono attraverso una nota che sulle emissioni del Sansificio di Pescara gli enti facciano di più partendo almeno spiegano da una decente informazione dei cittadini rilasciando e pubblicando sui loro siti web la documentazione di cui sono in possesso. Nel sottolineare infatti che il decreto legislativo 195 del 2005 impone agli enti di pubblicare sui loro siti web i dati ambientali e dei monitoraggi che detengono e tutte le autorizzazioni, gli ambientalisti si chiedono a che punto siano i siti di Arta, Asl, Comune e Provincia, quale sia il quadro emissivo autorizzato del Sansificio, quali i flussi di massa orari per ogni sostanza parametro, quali sono stati i monitoraggi a cui è stato sottoposto l'impianto negli ultimi anni e con quali risultati. Infine gli ambientalisti rendono pubbliche immagini video e fotografiche riprese dal forum dell'acqua al Sansificio di Pescara nelle notti scorse con una videocamera termografica precisando che servono solo a rappresentare in altra forma quello che tutti i cittadini vedono di giorno il riversarsi di enormi quantità di fumi nell'atmosfera che poi in parte ricadono sulla città. La composizione, la quantità esatta degli stessi e la rispondenza con i limiti tabellari aggiungono deve essere valutata dagli enti. E parliamo ancora di inquinamento. La Sibcommercio di Pescara interviene all'indomani della pubblicazione dei dati, dei risultati delle analisi effettuate dall'Arta sulla qualità delle acque in mare. Siamo preoccupati ed arrabbiati, afferma il presidente dell'Associazione Provinciale Riccardo Padovano, alla luce di questi dati che attestano che il nostro mare, dice, non è ancora balneabile. Siamo preoccupati perché si rischia davvero di vanificare la prossima stagione turistica estiva e siamo arrabbiati, continua Padovano, perché malgrado le tante conferenze stampa e i tanti convegni non ci sono interventi strutturali su depuratori e scarichi abusivi. Lo stesso Padovano chiede che si intervenga con urgenza proprio per sanare i depuratori e gli scarichi abusivi. Nuovo incontro con le istituzioni pubbliche a Pescara per il caso dei lavoratori interinali di Attiva. Sul tavolo la richiesta dell'assunzione con contratto inclusivo per 50 persone precarie da 36 mesi circa. Questo è un incontro che avviene con i vertici dell'amministrazione comunale e anche con il presidente della regione. Ce n'era stato uno di recente. Da quel giorno ad oggi cosa cambia e soprattutto cosa continuerete a chiedere? Continueremo a chiedere una conciliazione di questa avvertenza attraverso il riconoscimento spontaneo della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti di quei lavoratori che hanno titolo e diritto per potersi vedere riconosciuta questa soluzione conciliativa. Presenteranno oggi delle offerte secondo voi? Dovranno dirci sì o no rispetto alla percorribilità della soluzione che noi abbiamo prospettato. Resta fermo la volontà di andare avanti nel caso in cui le vostre richieste non fossero accontentate? Direi proprio di sì. Dovesse risolversi con nulla di fatto. Noi siamo pronti a coltivare ulteriori iniziative giudiziali che già abbiamo promosso. I lavoratori lamentano la situazione di aver lavorato diversi anni in una situazione di somministrazione di lavoro e hanno maturato il diritto alla conversione del contratto a tempo indeterminato. Questo è stato richiesto in sede giudiziale, già per uno di loro è stata ottenuta una sentenza positiva come sappiamo e adesso chiediamo alla attiva e alla pubblica amministrazione di poter operare la conversione di questi contratti a tempo indeterminato. Quanti sono i lavoratori dei quali oggi si discuterà? Conto più o meno dovrebbero essere circa 59-60 dei lavoratori che hanno diritto alla conversione e che chiaramente se non dovesse esserci una soluzione positiva in questa sede lo troveranno, a nostro parere, in sede giudiziaria. A Teramo il Movimento 5 Stelle cerca assessori e per farlo ha pubblicato e pubblicherà un avviso che sarà diffuso nei prossimi giorni. Elisa Leuzzo. La meritocrazia tornerà di moda. Con questo obiettivo il Movimento 5 Stelle di Teramo ha deciso di pubblicare un bando per la selezione di assessori 5 Stelle. Il Movimento infatti si presenterà alle future elezioni come forza di governo e in tempi non sospetti ha deciso di selezionare attraverso i curricula gli aspiranti assessori scelti tra persone competenti e indipendenti. Le persone sotto elezioni tendono ad assaltare la diligenza e a salire sul carro del vincitore. Noi oggi vogliamo cercare persone oneste, preparate, trasparenti che non vogliono solo una poltrona ma che vogliono solo lavorare per la collettività e farlo in maniera seria e corretta. Il bando è rivolto a tutti i cittadini preferibilmente residenti nel Comune di Teramo che vogliono ovviamente mettere a disposizione la propria professionalità per il Movimento 5 Stelle. Il termine di presentazione è di due mesi a partire da oggi appunto verrà richiesto alle persone di mandare il proprio curriculum insieme a una lettera di presentazione proprio per prendere parte e per poter essere candidato a prossimo assessore della futura Giunta 5 Stelle. Questa è una mossa innovativa che non è mai stata fatta a Teramo proprio per sottolineare la differenza con i vecchi partiti i quali scelgono gli assessori solo in base a poltrone, voti e amicizie. Questo è un metodo innovativo che contraddistingue il Movimento 5 Stelle secondo il principio della meritocrazia che vogliamo eriggere a punto fondamentale dell'amministrazione Teramana. Non possiamo ovviamente candidare persone con carichi pendenti e soprattutto che non siano attualmente iscritti a partiti politici. Questi sono i requisiti che chiediamo. Andiamo avanti. Una parte significativa dei 14 milioni di euro inseriti nel piano di sviluppo rurale per ristrutturare e incentivare le aziende agricole danneggiate dal sisma non saranno spesi per motivi burocratici. Andiamo ad ascoltare adesso la rabbia di un allevatore nel servizio di Filippo Tronca. Correva l'anno 2012 quando le regioni italiane rinunciarono a parte dei loro fondi europei del piano di sviluppo rurale e donarono 14 milioni per finanziare interventi di ricostruzione e rilancio produttivo delle tante aziende agricole devastate dal terremoto. Fondi inseriti nel PSR abruzzese conclusisi il 31 dicembre. Fondi inseriti nel PSR abruzzese che si è concluso il 31 dicembre. E oggi si scopre che solo una parte di questi fondi sono stati utilizzati. Sarà il Ministero con i suoi rendiconti a dire a breve quanti di quei fondi torneranno a Bruxelles. Questa volta però la colpa, assicura il nostro microfono Dino Rossi, esponente dell'associazione di allevatori Cospa, non è della lentezza burocratica e la misura ad essere stata concepita nel modo sbagliato all'origine. Tante aziende al palo e marturiate alla crisi infatti, che pur avevano bisogno di quei fondi come ossigeno, non avevano a disposizione le somme necessarie a coprire il 50% di tasca propria. Chi poteva accedere a questo tipo di investimento riguarda solamente chi sta bene economicamente perché si tratta di affrontare tutta la spesa, chiudere le quietanze delle fatture e poi aspettare che la regione diria il 50% di quello che praticamente è stata la spesa. Se non ce l'hai, la banca ti chiede la fiduzione. La fiduzione va dietro garanzia, garanzia su un immobile che praticamente è diroccato, non te la fa nessuno, è come il cane che si muore la coda. E c'è un aggiornamento per quanto riguarda la notizia che abbiamo dato in precedenza sull'incontro tra i lavoratori di Attiva, il comune di Pescara e la regione Abruzzo. Nell'incontro a cui ha partecipato anche il presidente della regione D'Alfonso, è stato deciso di porre un quesito alla Corte dei Conti sull'ipotesi di conciliazione, dice la nota del sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, in considerazione dell'incertezza giurisprudenziale circa la possibilità di conversione dei contratti di somministrazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, si provvederà ad inoltrare un quesito alla Corte dei Conti circa la fattibilità giuridica di una conciliazione tendente a stabilizzare i lavoratori che sono stati parte dei contratti di cui sopra tale soluzione ritenuta prudenziale anche dai legali dei lavoratori servirà a chiarire la possibilità della soluzione prospettata dagli stessi. Ed ora andiamo avanti. L'associazione terramana Robin Hood denuncia l'aumento dei costi in merito alle deleghe in materia ambientale conferite alle province dalla Regione. La Regione passa alle province le competenze ma non la documentazione. Questa è la denuncia che fa oggi l'Associazione dei Consumatori Robin Hood di Teramo perché alcune imprese si sono rivolte a voi per denunciare quanto sta accadendo. Sì, alcune imprese si sono rivolte a noi per denunciare questo fatto. In pratica il fatto che hanno al suo tempo 2000-2005-2006 consegnato la documentazione alla Regione quindi erano tenuti fino a quando non c'è stata questa delega a comunicare le emissioni in atmosfera o altri dati e di colpo oggi si vedono richiedere tutta la documentazione che abbiamo già presentato. Siccome bisogna fare progetti e avere documentazione di carattere tecnico che ha un costo anche elevato per cui noi non riusciamo a comprendere questa richiesta. E soprattutto non riusciamo a comprendere ma noi prendiamo spunto per questa situazione per fare una denuncia di carattere più generale che riguarda la non applicazione del Gebbassanini. Il Gebbassanini prevede che se uno fa una dichiarazione e dice che ha dei requisiti quella vale. Dopodiché è l'ente che riceve quella dichiarazione che va a verificare a campione oppure su tutte quante le posizioni se quella dichiarazione è vera e falsa chiaramente se non è vera ci sono le conseguenze di carattere penale. Quindi a distanza di tutti questi anni siamo veramente sgomenti che questa legge non viene applicata. Il caso della provincia secondo l'Associazione dei Consumatori serve ad accendere riflettori su un malcostume diffuso nella pubblica amministrazione che non tiene conto della norma e vessa i cittadini. L'associazione pertanto ritiene inutile e soprattutto dispendioso per le aziende la riproduzione di documenti già consegnati. E' pronta è arrivata la replica da parte della provincia di Teramo proprio in merito a quanto diffuso dall'associazione Robin Hood replica affidata al responsabile del servizio Giacomo Di Giuseppe che precisa tutte le autorizzazioni ambientali rilasciate prima dell'entrata in vigore del testo unico ambientale dovevano essere per legge rinnovate sulla base di un preciso calendario con l'entrata in vigore dell'autorizzazione unica ambientale e il rinnovo di anche un solo titolo autorizzatorio comporta la verifica su tutti i titoli necessari come il nulla osta sulla valutazione di impatto acustico quindi le aziende che non avevano le autorizzazioni precedenti l'entrata in vigore hanno dovuto acquisire anche le altre autorizzazioni se mancanti. Continua la nota per tutti i titoli autorizzatori rilasciati dalla provincia di Teramo si può arrivare a spendere al massimo 500 euro. E adesso apriamo la pagina dedicata agli eventi andiamo all'Aquila dove iniziano oggi le celebrazioni di Sant'Agnese con la tradizionale festa aquilana del pianeta Maldicenza dedicato alle malelingue. L'Aquila torna a festeggiare Sant'Agnese Santa protettrice delle malelingue appuntamento oramai tradizionale che avrà il suo momento clui il 21 gennaio ma già da oggi pomeriggio il movimento agnesino che conta ben 206 confraterni ufficiali celebrerà uno scherzoso processo al pianeta Maldicenza. In attesa della sentenza come ogni anno ci si torna intanto a interrogare su questa senz'altro originale manifestazione unica nel suo genere. Ci si chiede innanzitutto è giusto addirittura celebrare quel gran brutto vizio del parlare male dello spettegolare alle spalle? Oppure la Maldicenza è in fondo una virtù perché nell'accezione socratica significa parresia ovvero dire la verità praticare una critica mordace e sincera? E infine la domanda la riserviamo ai filosofi lanciare strali su Sant'Agnese e chi la festeggia non è in fondo anche essa Maldicenza? Sono curioso di vederla sono curioso di vederla io sto lavorando qui per un film quindi sono quella di passaggio E ritiene che gli aquilani sono dei pettegoli? Non li conosco bene sto cercando di osservare di guardare di conoscerla l'Aquila che è fantastica È un'occasione soltanto per incontrarsi con gli amici Però è un modo per incontrarsi essere insieme È un modo solo per incontrarsi con gli amici Lei non è pettegolo? No, no Giorgio In poche parole Sì È storica, è storica non è oggi che si fa però è una cosa divertente è un divertimento per gli amici che si riuniscono e chi dice la sua? Chi dice Chi dice la sua soprattutto sugli assenti? Dice la sua e sugli assenti diciamo una frase un po' e si sputtano l'uno con l'altro è una festa di tutti di tutti gli amici che si riuniamo e quando fai un presidente la mamma cazzo si fa si fa è festata ogni anno penso è stata sempre simpatica sì vabbè non ho altro da dire Lei è un pettegolo? Ma insomma penso di no insomma penso di no una volta ci siamo riuniti alle poste per la festa di Sant'Agnese abbiamo messo i nomi sopra i giornali e abbiamo fatto la cena la solita cena e ci siamo divertiti abbastanza adesso lo sport con il calcio di Serie B in primo piano parliamo del Pescara che prosegue gli allenamenti in vista della ripresa del campionato ovviamente a tenere banco e il mercato con la società a caccia di un centrocampista oltre a Ronaldo dell'Empoli si torna a seguire la pista con gli arrivi di verde dell'argentino Joella Costa il Pescara ha concluso un primo importante step di mercato considerando anche l'arrivo prossimo del difensore Domizi dall'Udinese si potrebbe anche parlare di trattative in entrata quasi concluse ma la società bianca-azzurra non vuole fermarsi nel mirino dei dirigenti c'è infatti un altro difensore oltre ad un centrocampista che andrebbe a rimpiazzare in organico l'eventuale partenza di Torreira per la zona nevralgica del campo resta in piedi la trattativa per Ronaldo dell'Empoli che piace però anche alla salernitana di Lotito resta anche l'interesse per Sciaudone che era stato già seguito dal Pescara nella scorsa estate sul fronte partenze oltre al possibile ritorno di Torreira in Blucerchiato c'è da considerare l'arrivo anche di un altro difensore che potrebbe indurre a questo punto Fornasier a chiedere la cessione Sanso Vigna numerosi estimatori in Lega Pro il Foggia al di là delle smentite ufficiali farebbe carte false per accaparrarsi l'attaccante pescarese e a proposito di attacco dopo Cappelluzzo in partenza anche Forte che dovrebbe andare a Lanciano in stand-by Cocco se dovesse partire ma solo per un'offerta importante potrebbe arrivare a Pescara da Lidzi Mirco Antenucci originario di Giulianova intanto la squadra prosegue la marcia di avvicinamento alla ripresa del torneo e alla gara a Casalinga con il Livorno anche oggi sono in programma due sedute di allenamento al Poggio degli Ulivi con Fiorillo e compagni agli ordini di Mister Oddo Clima ancora caldo in casa della Virtus Lanciano dopo la conferenza stampa di ieri da parte di Guglielmo e Valentina Maio rispettivamente amministratore delegato e presidente della Virtus Lanciano andiamo ad ascoltare le parole della presidentessa Valentina Maio e anche le reazioni dei tifosi a quanto detto all'interno della conferenza stampa per me per noi potevano rimanere tutti c'era da avere una mano abbiamo chiesto una mano non ce l'hanno voluta dare bene non importa noi andiamo avanti perché questa società come ha detto mio fratello non è fallita questa società ad oggi è penultima ma cosa il calcio la palla è tonda può succedere di tutto di tutto siamo anche a sei punti dalla salvezza non ce lo dimentichiamo e dovete avere fiducia in questa società come l'avete sempre avuta se l'avete avuta o meglio se non l'avete avuta cercate di averla perché noi abbiamo con le fiducia e le ringraziamenti questo ci tengo giustamente soltanto il rispetto personale prima di tutto perché si sta scatenando un'agonia che è fuori dal mondo è fuori dal mondo non credo assolutamente che i giocatori della vecchia guardia se ne siano andati all'idea loro spontanea volontà hanno detto che ci salveremo non so con quali giocatori poi verranno altri due punti di penalizzazione come hanno detto pure loro e non so proprio come ci faremo a salvare con mezza squadra con giocatori che non verranno perché chi vuole venire una squadra in smobilitazione allora di questo incontro le impressioni? no le impressioni quella principale che i tifosi o io personalmente mi chiedevo è se questa società aveva una continuità dei giocatori vanno vengono buoni cattivi ma chi lo dice che gli altri che verranno saranno di meno sempre ringraziando quelli che sono rimasti qua che hanno fatto i loro anni qua a Lanciano allora la proprietà ha parlato anche questo colloquio con i tifosi risolutore questo finalmente perché come ho detto stesso io a Guglielmo quello che è mancata la comunicazione il precisare le varie notizie che uscivano le cose che andavano dette entro i bar e poi riportate senza offesa alla categoria sulle colonne dei giornali hanno creato uno smarrimento totale nella tifosieria un qualcosa che probabilmente non succedeva forse dai tempi di Stranislao e non è giusto perché la società con i sacrifici che ha fatto non merita speriamo adesso al calciomercato vediamo chi arriva speriamo che la vecchia guardia alcune della vecchia guardia rimangano tipo il capitano voglio che rimanga anche per lo spogliatoio e vediamo adesso chi viene qui speriamo bene per la salvezza le interviste sono state realizzate da Alessio Giancristofaro scendiamo adesso in Lega Pro vigile di campionato per il Teramo che domani affronta al Bonolis il Pontedera il tecnico Vincenzo Vivarini intanto detta le condizioni per fare meglio del girone di andata nel girone di ritorno c'è stato il problema della squalifica quindi sono rimasto un po' in silenzio anche altri problemi ho preferito cercare di star tranquillo e concentrato sulla squadra e penso che adesso sia il tempo un po' nel bilancio di questo 2015 passato e sotto l'aspetto tecnico dobbiamo dire che per me è stato un anno molto positivo sia all'inizio che anche la fine perché abbiamo sempre cercato di essere all'altezza della situazione abbiamo lottato ogni partita penso che possiamo sicuramente rimproverare qualcosa però è meglio mettere la lente di ingrandimento sulle cose positive che abbiamo fatto adesso nel 2016 con questo mercato si deve sempre cercare di migliorare questo è stato sempre il mio obiettivo obiettivo della società da quando sto qua a Teramo quindi adesso c'è la possibilità di un mercato e penso che la società stia cercando di lavorare sempre con questa ottica di andare a colmare certe lagune e cercare di essere più competitivi nel girone di ritorno l'input che ho dato alla società è questo cioè chi è che non sta bene a Teramo chi è che è triste chi è che diciamo non accetta la situazione i problemi di Teramo è giusto che venga messo sul mercato perché chiaro si guarda intorno si vede un pochettino le possibilità che ha a disposizione perché nel momento in cui chiude il mercato e rimane a Teramo deve lottare con grandissima umiltà grandissima applicazione che giochi non giochi che vada in tribuna che sia in panchina però dobbiamo essere un gruppo solido unito questo è uno dei problemi diciamo che una squadra può avere e quindi siccome c'è stato delle forzature all'inizio di quest'anno adesso c'è il momento che magari dobbiamo appianare questo aspetto mentale e quindi tutti concentrati e tutti sul pezzo per cercare di fare un giorno di ritorno all'altezza della situazione è tutto per questa prima edizione del TG6 la nostra informazione torna puntuale alle ore 19 grazie per essere stati con noi buona giornata grazie a tutti